Lì dentro. Mi sposto. Sto prato. A posto. Non sono a posto. Sto... Sto... Sto ben dietro. Morto? No, però... E' a terra. Però quando mi hanno a terra l'ho messo. A terra? A terra dove? Là, là, sul tetto. Il nemico è stato... Ah, che pure lì è certo. Non penso si sia buttato perchè era a terra. Dove? Posso andare per me? Cambio zona. Ah, lo mettere su. Qui c'è un bersaglio. Cazzo. Hai un bombardamento in ruolo. No, 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 si sparano fra i loro. Sto lo sparando in quella casa. Ottimo. E' giù facci sapere se ti ha la kill. E' uccisione confermata, si. Te...